Ragazzoli belli, benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Oggi vi propongo un video diverso dal solito perché non stiamo parlando di Fortnite, ma stiamo parlando di Minecraft Dungeons. Un videogioco ragazzi uscito proprio ieri e, essendo io amante di Minecraft, non potevo non acquistarlo. Devo dire ragazzi che questo gioco al primo impatto mi è piaciuto davvero tanto e mi sta piacendo tuttora, davvero davvero tanto. Lo trovo un gioco molto divertente da giocare in compagnia con gli amici ed è anche molto interessante perché comunque ha delle meccaniche di gioco molto molto interessanti. Bisogna equipaggiare l'armatura, bisogna darlo alla propria classe, ci sono i vari artefatti, i vari dungeon. Ragazzi è un gioco a dir poco spaziale, è veramente veramente un bel gioco e ha un grandissimo potenziale. Quindi se non l'avete ancora provato mi invito a provarlo perché secondo me merita davvero tanto. Per supportare ragazzi questa potenziale serie che potrebbe iniziare appunto all'interno del mio canale YouTube vi chiedo gentilmente ragazzi di lasciare un commento a questo video, farmi sapere cosa ne pensate e di lasciare un bel mi piace perché in base a questo io posso capire se effettivamente volete altri video di questo genere o meno. Detto ciò ragazzi, godetevi il video perché è davvero davvero molto 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 bello. Buona visione ragazzi. Allora, io devo un attimo vedere l'esplorazione del corpo umano ragazzi. Madonna, i ragni qua sono fastidiosi. Sì, molto. Ma tu perché hai il cappello da mago e hai scelto già la classe? No, 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 ho trovato l'armatura. Oh, mento di livello ragazzi. Dunque l'arco su questo gioco sembra OP, eh? Lo vedi? Eh OP, Barca, tu lo vedi quest'arco? Ma non gli ho trovato nella parda. Oh! Lo sai che mi sembri, Barca? Oh, no, Barca, si vede proprio che sei di... No, vai, hai presente... Quello lì, Barca, è quando la ragazza dice Amore, sono solo in... Oh! Oh mio Dio. Questi erano i dungeon che troviamo su MC, vi ricordate? Sì. Ma qua cado? Barca, vai giù. Vai giù, vai giù, vai giù. Ma di chi è quel cane? È il mio. L'ho trovato in manufatto. E attacca pure. Lo voglio anche io. Eh sì, dopo... Vengiamo al buco? Oh, eh! Bugo? Eh, via, buco. Non voglio entrare nel buco. Ma questo qua è... Ho capito dove siamo. Sì, questo qua è... E poi la cosa è bella, ecco. Aspetta, aspetta. No! Eh, dovevamo vedere se avevamo completos, però vabbè. È colpa... È colpa di Martina. Ma signora, l'ultima! Ma non è vero! Dai, Marti, sempre colpa tua! Sempre colpa mia, ragazzi. L'accappamento. Mamma mia. 21 oggetti usati. Cioè, 21 oggetti usati. Barca! No, piccole guabbe! Alla signora! Abbiamo la cassa. Fermi tutti, fermi tutti. Uno, due, tre. Osso a cuo. Impetitoso. Quando hai in mano l'osso... Eh, ma tu sei troppo alto. Equipaggio del pezzo di cane che ti dà il cane? Iiii! Dov'è il cagnolino? Scusate. Voglio il cane. Eccolo, bimbi. Eh, sì. Lo richiami. Iuuui! Dai, no. Ma voi non li vedete i trailer, ragazzi? Ma lei non li fa vedere i trailer? Oh mio Dio, ragazzi. Questo manufatto mi... Non lo so che lo fa. Andiamo a barchetta. Mamma mia. Te l'ho manufattata. Te l'ho manufatta. Buonasera. Mi sto a te trasportando, ragazzi. Vai, ecco, ma iniziamo. No! Buonasera. Ma sei caduto? Sì. Che sfigato! Ma sembra così, eh. Volevo fare challenge. Mi dispensa solamente che non può entrare nelle case. Sarebbe figo, tipo, che vai a ispezioni. Sì, è vero. Alcune sì. Sì, alcune sì. Alcune sì. Ah. Consentiamo la TNT per il boss, perché il boss è morto qua. Io ce l'ho. Andiamo. Andiamo, andiamo. Ah, qua c'è la. Mamma mia, ragazzi. Fortissimi. Sì, sì, ma poi lasciandolo, cioè... Ah, però, tu fai troppi danni. Stai calmo, dai. Io? Eh sì, sei troppo avanti. Eh, lo so, se no... Eh sì, sai. No, ma più che altro ho sculato. Ho trovato troppi artefatti. No, dove andiamo? Da sopra? Come ne so... Andiamo da tutto? Sì, sì. No, io sono qui. Guardami, Marti. Guarda qua. Aspettatemi. Ah, poi c'è da là. Aspetta, Rio. Stai stai verso di te. Ti trovo. Oh! Oh! Ma sei impazzito? Come te le passo? Non le voglio. Grazie, grazie. Let's go. Marca, ma con quel person... Oh! 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 Giuro, non volevo, ragazzi. Il tritolo in mano a siciliani. Il tritolo in mano a chi? Ai siciliani. Ma cosa cazzo vorresti insipare? Brutto. Niente, assolutamente io. E Barca rimane indietro, ragazzi. No. Ma che mi rallenta il personaggio? Attenzione. C'è una gara. Non l'ho sbagliato. Barca è un outlet. Ma vedi che Barca preme F1. Barca. F1 su Giozzi. Oggi ci starebbe. Sì. Superare i cratoli. No, Martina mi ha scavato. No. Che lorda. Ciao, Belli. Eh, ma tu c'è l'armatura del mar... No, Barca, Barca... Oh, Dio, Dio. Supera, Giozzi. Oh, eh. Attenzione, sulla faccia. Si fa intensa. No, no, hai bevuto la pozza. Non male. No, 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 no. Vi ch... Ciao, invece. Vincere. Vincere, Marti. Ragazzi. No, non è giusto. Vabbè, Barca che perde è il classic Barca. Guardate l'arma. Guardate l'arma c'ho. Madonna, in un bananone. Ah, sì, è la... Eccolo là. Allora. Andiamo, eh. Non vi avvicinate che ci... Oh! Andiamo. Oh, forza. Oh, sei impazzito, Barca! Una piccola... Vado di freccia, vado di freccia. Io devo dire che ti vengo a arrivare. Come lascio a arrivare? Salvatore. Vai, come vuoi? Cazzo mi bocca a bocca. Ok. Oh, ok. Grazie mille. Rietoci. No, no, vieni. No, ragazzi. Oh, oh, oh. Oh, oh. Mamma mia, ragazzi. Tepe, 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 tepe. Sette, io cinque, mortavoli tua, Barca. Vabbè, ragazzi, ma vedi quanto è vera la mia... Ah, purtroppo ce l'hai, Barca, guarda la mia. Barca, guerra di Star Wars. Cin, 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 oh! Quindi possiamo andare? Sì, 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 abbiamo fatto... Ora abbiamo... Io ora ho un'arma forte, abbiamo un'arma forte. Questo da solo è stato veramente tosto. Qui? Qui? Ma bene, apprezziamo anche l'interno di sicurezza. Concordo. Voglio fare pastori di zucco, lo facciamo... Bravissimo, Barca... Vado, Barca già, ma vi capito? Ha aumentato la difficoltà, però... Si vola! Allora, bello l'ambientazione. Ah, vabbè, sì, infatti voglio farm... Oh! Sperate che già sono più resistenti, ah? Eh, sì. Ah, qui siamo da Barca, a Barchetta. Ah, qui siamo da Barca, a Barchetta. Ah, non siete arrivati, doveva fare di più. Eh, nulla, non c'è niente. Pensavo ci fosse qualcosa. No, è impossibile, si salirà sopra. Come si sale sopra? Eh, c'era quella... Io devo andare a vedere. Fatevi vedere. Cioè, un sacco di... Di mostri. Eh, io devo andare a prendere il... Il moito di prima. Oddio, cosa ho fatto, raga? Oddio, non ti ne ho uccisi. No, Barca, aspettaci, aspettaci. Perché tu ma... Guarda quanti mostri, venite qua, venite. Arrivo. Sono morto, sono morto. No, no, no. Davide, dai, dai, salvatemi, per favore. Arrivo, arrivo, Barca, Barca. Arrivo, arrivo. No, no, ragazzi, sto morendo, sto morendo. Arrivo, arrivo. No. Non è caduto. Vieni qua, l'animazione bocca a bocca da Giozzi e Barca. Oh, sì, Giozzi. Cosa sta... No, cosa fai? Mamma mia, no, dai. Allora, ragazzi, dobbiamo pillare le streghe. Perché le streghe potenziano gli altri. Comunque si vede che sono più difficili. Qua vedo un bel boss bello potente dentro tutto sto castello. No, tranquilli. Oh, è un bello cavati. Iiii, Barca, vedi qua. Iiii. No. Eh. Eh. Il barbatrucco. Arrivo a prendere con la leva. Oh, chi? Oh, lord. Squidi. Buonasera. No, il boss. Ah, no, no, nessun boss. È una semplice... È una semplice invasione. Appena spona lo chiediamo, allora. Vai. Se no poi io sono troppi. Oh! Trova il villaggio. Perfetto, ragazzi. Perfetto. E si va. Abbassa il ponte... Oh! Oh mio Dio! Pezzi di m***a. Però ti ho salvato. Ho tirato 180 fregge. Non mi dici mai niente. Poi c'era una leva. Poi c'era una leva. Molto bella. Hai visto che ho fatto? Visto. Ragazzi, il ponte elevatoio ha abbassato correttamente. Andiamo, ragazzi. È che non ho la cura, per questo non bisogna... È mia sta cassa. È mia. È mia. È mia. È mia. È mia. È mia. Ognuno a prendere la sua, comunque. Sì, lo so, lo so. Però era per farti spaventare, Barca. Bellissima come cosa. Sì, anche perché sono con Barca e non prendevi nulla. Eh sì, sì. Cioè, non lo so, boh. È tutto mio. Ma c'è un boss. Oh, oh! È questo! Vai, Barca! Vabbè, madonna, l'abbiamo... L'abbiamo destroyed, proprio. Wee, wee, fratomo! Tutto bene! No, la TNT era la butta da questa barca. Vieni qua, Barca. Vieni qua, Barca, vuoi la TNT? No, non me la darvi. La vuoi? Oh, yes. Oh! Leva di Barca! No! Sono morto anch'io. No, no, ti giuro, non era la mia intenzione. Te lo giuro su Gesù Cristo. La notte ti colpirò. Eh, 26 secondi per rianimarmi, ragazzi. Salve una mano. Dov'è, dov'è? Barca! È su un mortiglio, su un mortiglio. Eh, ci sta pure mia nonna che mi stesse qui. D'acqua la bella segnina. Ma scusa, ma perché ci devi disturbare? Ragazzi, mi sto mettendo sul... Mi stanno arrivando i piccioni. Ma come, come... Dai, raga! Allora, allora... Volpa di Marcina. Posso spiegare? Ti spiego. Ascolta, 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 ascolta. Allora, c'erano troppe persone. Ho detto, visto che c'ho l'arco che tira 30 frecce, vado di arco. Premo il destro e butto la TNT, capito? Vaff***a, io non la voglio la TNT. Sì, la TNT. C'era un barchè. Ah, ecco, c'era il barbatrucco, allora. Se avessero messo la possibilità di entrare nelle case per saccheggiarle, sarebbe stato bellissimo. Cos'è? Ragazzi, cosa ho fatto? No, che hai fatto? Ragazzi, ho dato un gong. Vaiù, 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 vaiù. No. Vabbè, ma c'è che divergiamo, ragazzo, per favore. Eh sì, ci mangiamo, ci mangiamo. Ci tre, mangiamo, veramente. Devo mangiare, mensi, barca. Mamma mia, veramente. Fa male. Fanno male, eh? Mamma mia, sono morto, mi hanno spaccato. Altro che fanno male. Mi sa che le doppie armi... Fratomon giustamente caccerato. Non lo so. Sì, si chiama Minecraft Dungeon. Molto figo. Oh, è l'evocatore, ragazzi. Oh! Tu, 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 tu. Sto morendo. Oddio. Oddio. Eh, tu, guarda io. Sto messa con... Dobbiamo aspettare. Sì, lì si esce. Eh, lì, in basso... Entra nel municipio. Sì, non munifibio, barca, municipio. Munifibio, ragazzi. Entra nel municipio, dai. Eh, ma non abbiamo esplorato sotto, no? Vabbè, vittoria. Vabbè, vittoria. Ragazzoni belli, siamo giunti al termine di questo video. Io spero vivamente che vi sia piaciuto. E se volete altri video su Minecraft Dungeons, lasciate, ragazzi, un bel mi piace e un commento sotto questo video per farmi capire, appunto, che siete interessati a vedere altri video su questo fantastico titolo di gioco. Detto ciò, ragazzi, vi do appuntamento a domani, alle 14 sul mio canale, con un video di Fortnite molto, molto bello. Quindi non perdetevelo e attivate le notifiche. Detto ciò, ragazzi, ci vediamo domani con un nuovissimo video e una buona giornata. Dalla vostra Martina, Croatimist. Autore dei numerosi Kerkaisines. Autore dei numerosi Autore dei numerosi Kerkaisines. Attuali le notifiche. FacMMSh due.